Ascoltatemi, ascoltatemi un attimo. Non sono mai riuscito a parlare, a capire quello che provo veramente. Mentre voi non l'avete sempre fatto sentire importante, utile per qualcuno, e poi che cazzo non l'avete fatto? Non sono riuscito manco a fare una delle cose più stupide, come mettermo in un'altra vita. Vabbè, comunque stai a fare una cosa importante. Speriamo. Speriamo. È una cosa importante, no? Speriamo. Stai lasciando il segno, eh? Speriamo. Speriamo.